Ciao, mi chiamo Daniela e con questa testimonianza volevo ringraziare Deborah Picelli che ho avuto la fortuna e la benedizione di conoscere circa due anni e mezzo fa. Da allora attraverso delle sezioni individuali e collettive, quindi attraverso anche Accademia di Luce, dove ho avuto la fortuna di conoscere persone meravigliose, mi ha presa per mano e mi ha condotta verso un sentiero alla ricerca di me stessa. Non è stato sempre un sentiero facile da percorrere, non è stato tutto rose e fiori, soprattutto perché spesso mi sono dovuta confrontare o mi sono messa di fronte i lati più oscuri della mia persona. Però insieme abbiamo cercato di lavorare e di trasformarli in luce. Mi ha fatto capire quanto è importante la meditazione e l'ascolto di se stessi e questo ha cambiato veramente la mia vita. La ringrazio per la professionista che è e per la meravigliosa persona che è. Auguro a tutti di iniziare un percorso insieme a lei e di vivere un po' quello che ho vissuto io che sicuramente ha migliorato la mia vita. ecco